Giornalismo 3.0 Una nota di evidenza per quel che vogliamo sia il talento e la prospettiva che i nostri giovani possano individuare nel loro futuro. Oggi hai cercato di dare un taglio che dia il senso di questa evoluzione della persona, dei suoi talenti, questa scoperta che diventa in qualche modo progressiva autoconsapevolezza. Sei partita da Ozzium con la rivista del liceo classico, anno 1, numero 1, 1968 e questa data ha molto da dire e da raccontare, in cui Gianfranco Formichetti scriveva peraltro un suo articolo. Sì, dovendo fare questo intervento sono andato un po' a curiosare tra le mie cose e con sorpresa ho ritrovato questo numero di Ozzium e mi è sembrato opportuno, venendo al liceo classico, con studenti del liceo classico, di far vedere questo, so che loro fanno anche un giornalino e lo facevamo anche noi, e quindi mi hanno fatto vedere che cosa eravamo capaci di fare anche noi in sostanza. Ad impressione, cosa è cambiato dal 68 ad oggi nella scuola? I giovani, gli studenti, qual è la nota che ti balza subito agli occhi? Ma io sono convinto, non sono dell'avviso crociano, che l'unico problema che hanno il giorno è quello di crescere, sono di tutt'altro avviso. Io sono convinto che i giovani siano sempre gli stessi ma con problemi diversi, questo è il dato di fatto. Credo che noi diamo giudizi fortemente negativi, tanti insegnanti parlano male dei ragazzi, ma secondo me è un errore grosso perché io ho l'impressione che bisognerebbe capire i problemi che hanno e soprattutto saperli entusiasmare, perché questo è il punto fondamentale. Il compito dell'insegnante è quello di trasmettere ma con una forza di entusiasmo le conoscenze, non le nozioni. Le nozioni sono elemento base, le conoscenze sono un'altra cosa. Le conoscenze vuol dire far appassionare, vuol dire insegnare e dare consapevolezza della qualità dell'insegnamento e soprattutto, si diceva poco fa, il bello della conoscenza, far aprire la mente, generare lo spirito critico che è il compito che dovremmo tenere ben presente. Entusiasmo è la molla che muove la giovanile passione per l'archeologia, che poi rimane come fil rouge, sotterraneo e non sempre nella vita e nella storia di Gianfranco Formichetti. Sì, sì, questi sono momenti significativi della mia vita, legati a quel mondo lì che io ho perseguito anche negli anni del mio assessorato. Non voglio fare autocitazioni, ma la mostra sui Sabini è stato, credo, uno dei momenti più belli della storia moderna, della cultura della nostra città. Credo che lo scavo che si sta facendo ancora oggi e che per fortuna continua nella realtà di Camporiatino sia un altro segnale importante della nostra cultura, della quale dobbiamo riappropriarci. E questo è un po' un problema della nostra città. La nostra città ha scarso interesse per la nostra cultura e dobbiamo stimolarla sempre di più. Molti territori hanno inventato imperi, per esempio, sul mondo degli etruschi, mi viene da pensare. Ma noi che siamo il centro di questo mondo dei Sabini, che tanta curiosità desta e che tanto ha da raccontare, e tanto invece ha già raccontato nel silenzio, consentimi lo simolo. Sì, ma è così, in realtà è proprio così. Io quando parlo, oggi stesso, quando ho fatto riferimento a Tito Tazio, al fatto che nel primo periodo romano sono i Sabini che conducono il gioco, ho visto i ragazzi che sono sorpresi. Quando ho detto che noi diciamo Romolo non avevamo un periodo dello stile, ma ci dimentichiamo di Tito Tazio, che era correggente con Romolo, e i due re successivi sono Sabini, danno indicazione di quella che è una preeminenza culturale dell'elemento Sabino. Ma il problema nostro è che non abbiamo questa coscienza di appartenenza. Questo è un problema nostro, del nostro territorio, tra l'altro un territorio anomalo, perché noi mettiamo insieme elementi territoriali che sono discostanti tra loro. Quando uno pensa all'area che da Antrodoco arriva da Matrice, che cosa ha a che fare con quella che arriva a Magliano Sabino, a Poggio Mirteto o da quest'altra parte? Questi sono i problemi. Quindi l'appartenenza è difficile da riconquistare. Questo è il punto. Comunque noi ci stiamo provando, ci abbiamo provato in questi anni, ci abbiamo provato e spero che si continui a lavorare in questa direzione. È una direzione che vale la pena di affrontare, perché sono queste storie che parlano di anima e di origini che i reatini hanno difficoltà a raccontarsi e che talora sono messi in condizione di sentirsi raccontare dall'esterno. Il problema secondo me è che ignorano questo, è il problema di su di fondo. Cioè non conoscono la nostra storia, perché se la conoscessero certamente avrebbero di che inorgoglirsi. Questo è il problema. Ma noi siamo ancora quelli che chiamiamo il Palazzo Papale, lo chiamiamo il Palazzo Vescovile. Questa è la realtà nostra, il dato di parte è questo. C'è un po', mentre in altri luoghi c'è la voglia esatto di amplificare, da noi chissà perché c'è sempre questo diminuzio. Ci tratteniamo, siamo profondamente modesti. Mi piacerebbe vedere sul cartello di ingresso della città di Rieti, Rieti, città Sabina, centro, cuore della Sabina. La mia ultima cosa da assessore è stata quella di far diventare Rieti città di cultura e d'arte. Io sto ancora aspettando che mettano i cartelli di questa cosa. Stiamo aspettando. Questo fatto ci è stato riconosciuto ufficialmente dall'assessore alla cultura, era il presidente di Perugia, che non aveva neanche simpatia e sintonia con l'amministrazione che allora governava la città. Eppure ci ha mandato una lettera bellissima in cui si diceva che questa città in questi anni ha fatto dei progressi straordinari, tanto da potersi meritare di essere inserita nelle città d'arte e cultura. Io ho pregato gli amministratori di mettere, perché non lo potevo più fare, di mettere i cartelli città d'arte e rieti, città d'arte e cultura. Vogliamo mettere questi cartelli, insomma la città, la città li vale. Insomma io direi che è giunto il momento di decantare le lodi del nostro passato e di spalancare i spiragli al nostro avvenire. Direi proprio di sì, speriamo bene. E parliamo tanto di un turismo mancato, abbiamo le armi, i mezzi, gli strumenti, i contenuti per aprirci e noi li usiamo. Ripeto, speriamo bene. Concludiamo, concludiamo con una riflessione, un dialogo con gli studenti, anche un po' il raccontare gli inizi, giocando nella redazione del tempo, inventandosi questo percorso che poi ti porta ad essere pubblicista e poi può diventare qualcosa di più. Perché non dimentichiamo questo aspetto, che molti aspetti, molti rivoli che possono sembrare accessori secondari nella prima gioventù, o poi possono diventare focolai di grandi incendi in età più avanzata. Certo, possono diventare addirittura profili professionali, profili di grande profilo. E concludo con una citazione, un'altra città. Hai scritto qualcosa che ha più o meno questo titolo, una città diversa. Una città diversa, sì, ma mi pare di aver lasciato una testimonianza. L'ho voluto fare per memoria storica, mi è sembrato corretto e giusto farlo. Ad futuram, re memoriam. Il museo, la biblioteca, il teatro, questa trinità, questa triade, che cosa ti evoca in questo momento e che cosa ti aspetti dal futuro prossimo? Ma intanto evoca momenti di grande entusiasmo, di grande soddisfazione e la speranza che questo entusiasmo e questa soddisfazione continui, anzi migliori. Grazie di cuore, Gianfranco Formichetti, grazie. Grazie a te.